Buon giovedì 26 novembre. Nella memoria della nostra finitudine che ci invita a vivere la vita intensamente, con generosità e con spirito di collaborazione, ricordiamoci di essere forgiati a immagine di Dio ciascuno di noi e questo ci riporta a una similitudine tra di noi che accoglie la diversità come qualcosa che ci riguarda profondamente. Nella diversità troviamo un intimo legame con noi stessi perché tutti, tutti, siamo ugualmente fatti a immagine e somiglianza di Dio. Siamo tutti ugualmente fratelli e sorelle chiamati alla correzione reciproca nel rispetto della vita da vivere intensamente nella dimensione dell'amore. Buona giornata a tutti.